Con anche Figoli sulla velocissima Jaguar in seconda fila, partenza tutti affiancati, si scatenano i cavalli, 550 cavalli. Questa è la posizione Herber, in un momento non poterlo, buona patente, c'è la via. Signi, i piccoli, i nudi, i cavallini, Herber, il stopper con Cesar, il motore. Questa è la via, la via, la via, la via, la via, la via, la via. La via, la via, la via, la via, la via, la via, la via. Molta fisura di Fugilani, la spaccatta della San Donato, vediamo che di là, il motore del passaggio del Gerso Vicano. E' quarto il Toscano. In scia a Micola, staccato da San Donato, la Solaris, il francese, il francese, il francese, il francese e il francese. Grazie a tutti. E side by side, velocissime, entrambe le vetture sul rettilineo con Sinichelli e Stena, prova anche la linea di affiancare piccoli e battaglia anche la linea di cerco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passaggio delle due BMW con l'attacco di Bettini sulla vettura di Ussi che poi espruta la potenza del nuovo governo di Cerce e ritrova la Ussi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.